Sia Stock, benvenuti in questa nuova Controrassegna Stampa. Buongiorno dal vostro Maggiaro. In America i vertici americani mandano letteralmente a quel paese l'Unione Europea e Bruxelles, non sto scherzando, un'intercettazione telefonica che in realtà risale a febbraio 14, condivisa anche da Wikileaks Italia, vi farò vedere il video se volete vederlo. Victoria Nuland, quella dei biolaboratori in Ucraina, ve ne ho parlato ieri, oggi in mano ai militari russi, durante una telefonata con l'ambasciatore a Kiev, americano ovviamente, Piat, che cosa fa? In qualche minuto surreale si discute su chi porre ai vertici della politica ucraina, cioè l'America decide per l'Ucraina. Piazza Maidan, la prima rivoluzione ucraina filo-occidentale, ricorderete le proteste violente di piazza, l'America ha un intervento dell'Unione Europea per risolvere la situazione, le tensioni nel paese dell'Europa orientale, preferisce l'ONU e manda letteralmente, sempre la Nuland, a quel paese l'Unione Europea. Ora, questo ci dice come l'America abbia delle influenze in quel paese, delle influenze anche Soros ha ammesso di aver finanziato delle personalità, mettiamola così, e di come l'America, di fatto in una maniera simile a quanto avviene per la scelta del personale in una multinazionale, in una ONG, abbia deciso dal 2014 la presidenza della Repubblica di Poroshenko, dopo quella di Yanukovic che è stato allontanato, il filo russo, poi è arrivato nel 2019 ovviamente Zelensky. Questo è il video, dura qualche minuto, dove la Nuland effettivamente dice quello che dice, se volete vederlo, questo è il titolo e questo è l'autore che l'ha caricato su YouTube. Ora, se volete sostenere l'informazione indipendente, potete farlo, quindi sostenere il Magiaro, tramite Paypal o tramite bonifico bancario. Perché chiedo questo? Perché YouTube, purtroppo ormai di default, in maniera predefinita, appena carico un video, qualsiasi video, anche un trailer, non mi dà la monetizzazione. Poi regolarmente sotto la mia richiesta di una revisione manuale viene ripristinata la monetizzazione. YouTube poi non mi permette, non capisco perché, l'implementazione di quella funzione chiamata della suddivisione in capitoli dei video, non posso fare delle rassegne stampa con letteralmente i capitoli, dove gli utenti possono, gli iscritti possono scegliere quale notizia, ascoltare in quale ordine. Ditemelo voi se sapete perché questa funzione non mi viene attivata, rispettando le istruzioni di YouTube. Andiamo avanti. Irodo Pontù. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione, vi giuro, che pone fine, porrebbe fine, alle discriminazioni razziali etniche. Detto così, sembra il Movimento 5 Stelle quando dal balcone famoso a Roma annunciava la fine, l'abolizione della povertà, il reddito di cittadinanza, ve lo ricorderete. Il Parlamento europeo dà alla Commissione europea il potere, darebbe, per il futuro, di togliere i finanziamenti europei comunitari a quei media, a quelle associazioni culturali, scuole, governi, governi ho detto, di stati membri sovrani, che non puntano sulla società multietnica, che non combattono, secondo l'Unione europea, le discriminazioni nell'ambito mediatico, culturale, dell'informazione, le discriminazioni che si basano sul colore della pelle, che si basano sulla provenienza, sulla minoranza. Però il Minority Safe Pack, dico io, delle minoranze linguistiche europee, fuori dalla nazione di provenienza, quello non interessa all'Unione europea. La vicepresidente della Commissione europea, Vera Eurova, Minority Safe Pack, ve le ricorderete, ve ne ho parlato, le minoranze in Ucraina, in Slovacchia, eccetera, in Unglese, come per esempio ci sono altre minoranze anche in Italia, ovviamente. La petizione firmata da migliaia e migliaia di europei, quello tutto nel dimenticatoio per l'Europa, quello non è minoranza, quello non è diritto europeo, Stato di diritto europeo. Andiamo avanti, la televisione pubblica M1 e Medi manda avanti quell'inchiesta di Modern Hems, è stato il giornale conservatore su Soros, sull'Unione europea, sulle influenze che non si limitano ai giornalisti, vi ricorderete, vi paghiamo. Lui, che si chiama Nosko, Andrei Nosko, ex capo dell'Open Society, uno dei vertici quantomeno, parli in una telefonata Skype con il vertice di Amnesty International Ungheria, e decidano, parlino di come si decide letteralmente come plasmare l'immagine dell'Ungheria, dei governi, come quelli ungheresi che stanno contro l'Unione europea su certe tematiche, di mostrare un'immagine falsa dell'Ungheria, della Polonia, eccetera. E si parla di come i giornalisti vengano letteralmente, si può dire, comprati, con il pagare loro migliaia di euro di viaggi, di colazioni, di pranzi, eccetera, eccetera. E poi si parla di come anche dei diplomatici, dei consolati delle nazioni occidentali, personale diplomatico delle nazioni occidentali europee dell'Ovest, abbiano avuto degli incontri con queste ONG, con questa rete della società aperta di Soros, per il da farsi sul mostrare la cattiveria dei governi, tra virgolette, ribelli. A proposito di Open Society di Soros, di George Soros, come viene detto in Italia, erroneamente, Modern Hemset sempre ci parla di come una insegnante di nome Peter Ondreo della CEU, Central European University di Budapest, quella di Soros, che non è stata cacciata, come detto, fake news, bufala, in Italia, ma che sta costruendo effettivamente una nuova, addirittura, sede, sempre in Ungheria, non è stata cacciata dal cattivone Orban. Che cosa si è lamentata su Facebook di essere stata cacciata dall'università dove insegna, da un gruppo studentesco, il suo, delle sue classi. Si lamenta, viene reinserita e addirittura dice Ma veramente così funziona la società aperta? Società aperta, simbolo della libertà, del diritto, dello stato di diritto liberale, o meglio, neo, neo, liberale, neo, liberale. Da Karl Popper a Soros la differenza è enorme. Questo i telegiornali italiani, come l'altra notizia, non ve la daranno mai, ovviamente. Ah beh, se si parla di irredentismo, il giornale spagnolo che cosa fa? Parla di Ungheria, soprattutto, perché l'Ungheria, secondo un sondaggio dell'Eurobarometro, è letteralmente la nazione con più voglia di annettere territori esterni. Questo secondo loro. E che cosa fa il giornale europeista? Insinua che Orban, il governo ungherese, punterebbe a ritornare in sostanza alla grande Ungheria, riprendersi i territori, gli accordi di Versailles, Trionon, di inizio novecento, sottrati. Ricordiamo che l'Ungheria ha perso due terzi del proprio territorio. C'è tutta la questione delle minoranze linguistiche, in Romania, in Slovacchia, in Serbia, in Croazia, eccetera, eccetera. Si insinua che Orban punterebbe, si parla di come Orban sia Filo Putin, il miglior alleato, oggettivamente, in Unione Europea di Putin, della Russia, e di come Orban non invii armi e non faccia passare armi verso l'Ucraina, attraverso il territorio ungherese. Il nazionalista Orban punterebbe a riprendersi, per esempio, la Transcarpazia, che oggi è Ucraina, Carpatoio, in Ungherese. Ora, voglio chiudere con Kadirov, il ceceno, eletto col 90% dei voti, si potrebbe dire un dittatore islamista, che ha mandato delle truppe paramilitari a combattere a Kiev, quelli tutti con la barba, per intenderci. Come scrive Vodo Itasho, deride le sanzioni economiche occidentali, sapete McDonald's, Coca-Cola, Pepsi-Cola, quindi i russi che devono cambiare abitudini di vita, e lui dice che è meglio perché le aziende agricole locali respireranno, torneranno a respirare con la chiusura dei McDonald's in Russia. E parla di come, letteralmente, l'Occidente pensi che le sanzioni portino ad una vera e propria fame in Russia, una nazione che ricorda Kadirov, che non viene affamata, ma che può affamare a sua volta il mondo, dato che ricopre un ottavo e costituisce un ottavo delle terre emerse mondiali. Ecco, con questa notizia vi lascio, come sempre, al prossimo segmento tra Italia e Modior Orsag.